ahahahah no no davvero allora vorrei dire una cosa il primo pezzo che suono quest'oggi questa sera faccio spettacolo ma ti chiedo devo presentare devo suonare ti aiuto oh se a me mi dici non sei preoccupato ma se la serve per uno poi se ne pagano è meglio allora volevo dire che oggi oggi un mio amico compie 18 anni Mattia eccolo lì vai Mattia e li potrei dedicare anche se non c'entra niente Kain il pezzo di Giusebriani e quindi Mattia vorrei un grazie perché vai Mattia grazie allora lui suonerà ovviamente questo prano di Giusebriani crime e poi il free bird e il sky nerd non ci attivano non ci attivano non ci attivano proprio va bene noto lungo io l'era però ne ho non non fa un orario e' un po' di roma e' un po' di roma la città e' un po' Rocello 5 Gvoltere Gvoltere La Gvoltere Pd 4 Poi 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 a la 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 io non ho fatto aggiorni la cazzo la cazzo non mi chiede ecco ecco l'uomo la cazzo la cazzo la parte della cazzo l'amore 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.